Non possono guardare le persone come dei numeri, dietro le persone, dietro i lavoratori ci sono famiglie, ci sono i figli. Circa 70 lavoratori dell'aeroporto titominiti rischiano una volta terminati gli ammortizzatori sociali di rimanere senza un futuro. Uno scalo quello reggino che non solo subisce i tagli dei voli, ma che è caratterizzato anche da una forte crisi occupazionale, nell'indifferenza delle istituzioni e soprattutto nelle inadempienze della SACAL, la società di gestione presieduta dal prefetto De Felice e dell'ENAC che a causa delle mancate assunzioni non garantisce l'adeguata sicurezza. Non si capisce come mai ENAC che fino a qualche mese fa quando c'era la SOGAS sanzionava, si può dire, quasi settimanalmente la SOGAS quando mancava una sola delle persone adibite a quel tipo di servizio e oggi non lo faccia più. Chiediamo alla SACAL che al più presto metta in campo quelli che sono i numeri che aveva presentato nel bando, perché il bando l'ha vinto anche grazie ai numeri di personale che aveva garantito per la gestione dell'aeroporto. Padri di famiglia che dopo anni e anni di servizio si ritrovano impantanati tra la burocrazia, le cause giudiziarie e soprattutto con la costante paura di non avere più un lavoro. C'è tanta rabbia perché io ho 57 anni, non posso rinventarmi un'altra posizione lavorativa. Spero che si ripristini e che io insieme agli altri colleghi, perché loro hanno anche tutti i diritti come ce l'ho io, di continuare il nostro lavoro che abbiamo fatto con professionalità all'interno dello scalo di Reggio Calabria. Angela Panzera per la CINUS24